Rimane altissima la percentuale di ore che si spendono per la burocrazia e per adempiere a queste pressioni, a questo tipo di pagamenti legati al fisco. Quanto però è pesante la pressione fiscale in Italia? Quanto penalizza il sistema economico italiano? È pesante anche perché, come dicevi appunto, c'è un'incertezza enorme. Oltre alla pressione fiscale elevata c'è un'incertezza enorme. Lo vediamo in questi giorni quando ci sono le file per andare a pagare ancora la Tares dello scorso anno, la Minimu, cioè l'addizionale che ci tocca nonostante l'abolizione in teoria l'anno scorso dell'Imu. Un italiano spende in un anno 269 ore solo per fare tutti gli adempimenti fiscali. In Europa sono 100 ore in meno. Quindi anche questa è pressione fiscale, crea incertezza nell'economia, sui consumi. Questo è un problema, oltre ovviamente a quella della pressione fiscale di per sé elevata.